amici di facebook e anche di youtube guardate questo è un palazzo mitico sono gli esterni di un albergo si no perché è stato cambiato un po nel tempo è stato restaurato come un'opera d'artel si sono gli esterni del mitico grandi magazzini siamo ad agrate briazza dai andiamo veloci 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 per durare poco il video qua la batteria scende facciamo finta di entrare nei grandi magazzini adesso vi faccio vedere un altro luogo mitico sempre di questi esterni perché all'interno non è stato girato niente all'interno era stato girato se mi ricordo bene in un centro commerciale a roma vedete ci stiamo avvicinando all'entrata c'è il signore che telefona non era una comparsa non c'era proprio allora ci troviamo nel luogo vediamo se vi ricordate dove la dell'era eva grimaldi e si fermano perché gli esce la l'aria c'è no qualcun altro però esce l'aria da sotto e sbuffi gli si alza la gonna ma fai vedere un attimo il pavimento guardate noi non ci siamo mai accorti mai accorti ci siamo perché guardavamo la dell'era qua no quel pavimento qui non c'è non ci sono le grate non ci sono le grate e noi stiamo a guardare la dell'era e l'altro che cercano la donna che si alzava giustamente vediamo un attimo di qua che facciamo vedere dall'inquadratura lì circa com'era circa 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 così spetta tipo una cosa del genere la vediamo benissimo dai andiamo dentro l'ultima inquadratura di questo posto seguimi seguimi non è che vedete comunque un bello te diciamo che ci hanno pagato ve lo consiglio si sta bene veramente hai pagato tu ottima colazione in camera la siamo portata da casa ecco qua entriamo nel posto dove il grande lino baffi con la figlia cantava ueppi eppi 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 andiamo vediamo anche l'angolatura giusta perché c'è una mamma col bambino che negli anni 80 non c'erano comunque guardate i vasi sono sempre quelli delle piante sono stati spostati i vasi delle piante sono sempre loro eccolo la ci siamo quasi per farlo vedere aspettate un attimo in quell'angolo la aspettate un attimo si un attimo perché non può riprendere ma chi se ne frega ecco in quell'angolo lì lui suonava aspetta vado io vado io bene rimane pure lì perché la scritta grandi magazzini era stata posta ovviamente per il film come davanti alla facciata del quello che è l'hotel di adesso la cupola la cupola c'è sempre lei solo che è stata ricolorata diciamo una volta era colorata proprio multicolorata adesso in bianca bene amici di facebook vi vogliamo bene questo è un luogo mitico io sono proprio contento happiness proprio come lino baffi ci siamo venuti qui solo per dormire apposta qui a fare questo video amici di youtube aggiungete i nostri profili personali se così state aggiornati anche su queste cavolate che Susanna Fontana Enrico Tamburini ciao buona domenica buon pomeriggio buon sempre ciao ciao Ciao